la strada la sapete, vado in coda io meno sobalci, l'avevo messo sul cuoco e vedevi cielo terra, cielo terra, non va bene si, l'aier o traia? si, l'aier o traia si, l'aier o traia si, l'aier o traia con le trate schiacciarli per bene con le trate schiacciare due strade o questa o quella però per voi è meglio questa perché l'altra sale di più è una pietraia unica è una pietra è una pietraia unica 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 la cara dell'intervista Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.